Il mondo scoprirai, molte cose imparerai, Blippi! Il mondo scoprirai, molte cose imparerai, Blippi! Ah! Wow! Ehi! Sono io, Blippi! Avete visto che cos'ho qua? Già! Del materiale per lavoretti! Io adoro fare i lavoretti! Avete visto? Ho qui un paio di forbici! Ho anche una cucitrice! E inoltre ho della bella carta colorata! Già! Uh! E guardate che bello! Già! È un albero di Natale! Uh! È già quel momento dell'anno! Già! È il periodo delle feste! Ehi! Voi e io, in questo video, ecco, creeremo una decorazione a catena per l'albero di Natale! Sono molto emozionato! Perfetto! Questo sarà per certo molto, molto divertente! Allora, la prima cosa da fare è chiedere a un adulto di starvi vicino se avete intenzione di usare le forbici! Già! Vi insegnerà come usarle correttamente! Bene! Per cominciare ho fatto una striscia rosa! Anzi, penso che ne farò più di una! Rosa ne ho abbastanza! E quindi, ora passiamo all'arancione! Ok, cominciamo con questi due colori, poi magari ne aggiungeremo altri! Ma prima di tutto, dobbiamo avvolgere questa striscia unendo le estremità! Ecco, così, visto? Poi prendiamo la cucitrice e mettiamo un punto! Oh! Ciao, ciao! Wow! È un cerchio arancione! Oh, bene! Il prossimo passo è prenderne una rosa e passarla attraverso il cerchio arancione! Ecco qua! Già! Perfetto! Ben fatto! Guardate! Già! E ora rotoliamo questa striscia intorno a quell'arancione! Ok! E poi la pinziamo come abbiamo fatto prima! Wow! Vedete il risultato? Già! Due anelli inseparabili! Ora ne prendiamo un'altra arancione! Già! Vedete? E poi la arrotoliamo e infine la pinziamo! Wow! Wow! Che forte! Ok, direi che possiamo aggiungere altri colori! Ok, prendiamo il rosso e anche il blu e il giallo! Wow! Guardate cosa abbiamo creato! Wow! Secondo me è proprio della lunghezza giusta! Ora con la vostra bella ghirlanda colorata andate all'albero di Natale Già! E poi la usate per attobbarlo per bene Vediamo un po' Cominciamo da qui! Ecco fatto! Sembra il punto giusto per cominciare! Poi facciamo un giro di qua! Non ho neanche bisogno di girare tutto intorno! Ok! Che cosa... Che cosa ne dite? Come vi sembra? Già! È fantastico! Siamo stati super bravi a creare una decorazione per l'albero di Natale ma abbiamo un altro lavoretto da fare! Già! In questo caso faremo un addobbo a fiocco di neve! Già! Voi avete mai visto un fiocco di neve? Già! In pratica è una goccia di pioggia congelata che cade leggera dal cielo! Wow! Che ne dite di farlo semplicemente bianco? Già! Il bianco è il colore dei veri fiocchi di neve! Con questo foglio ne faremo uno bello grande! Ecco qua! Lo pieghiamo, lo pieghiamo e lo pieghiamo! Molto bene! Ok! Adesso dobbiamo fare parecchi tagli! Wow! Ci siamo! Che ve ne pare? Pensate che ne uscirà un fiocco grandioso? Già! Ehi, ho un'idea! Perché non prendiamo una punzonatrice e non facciamo dei forellini decorativi? Oh! Fantastico! Ok! Oh! È un po' duro! Magari conviene aprire il foglio almeno una volta! Wow! Già! Vederlo così aperto è bellissimo! Bene! Io direi di praticare un bel forellino qui! Wow! Poi ne facciamo un altro qui! Già! Magari ho un altro qui! E un altro ancora proprio qui! Ok! Adesso apriamolo del tutto! Wow! 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 È un fiocco proprio bello! Wow! Bene! Direi che di forellini ne abbiamo fatti in abbondanza! Perciò mettiamo un gancio e lo appendiamo all'albero! Wow! Ok! Dove lo mettiamo? Magari... Magari... Proviamo qui! Più in alto? Già! Sta benissimo! È venuto bene il fiocco di neve? Già! Bravissimi! Wow! Siamo stati veramente grandi nel realizzare tutti gli addobbi per l'albero! Ma non abbiamo ancora finito! Già! Dobbiamo continuare con le decorazioni creando un altro addobbo fatto in casa! Sarà un altro addobbo a fiocco di neve! Allora, che cosa abbiamo qui? Come vedete abbiamo della pittura colorata! Una pistola per la colla a caldo? Delle graffette metalliche Dei pennelli di vario tipo per la pittura Delle palline di feltro Wow! Sono coloratissime! Le avete viste? Inoltre abbiamo dei bastoncini di legno! Beh, probabilmente ne avrete già visti, non è vero? Sono come quelli dei ghiaccioli! Già! Due bastoncini da ghiacciolo! Wow! Qui c'è scritto... Contiene mille bastoncini! Wow! Questi sono tantissimi bastoncini da ghiacciolo! Ok, dunque, credo che dovremmo contarli tutti per essere sicuri che ci siano davvero tutti quanti i bastoncini! Pronti? Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Undici Novecentonovantasette Novecentonovantotto Novecentonovantanove Oh no! Novecentonovantanove! Dov'è il millesimo? Oh no! Ehi! Già, avete ragione! È qua sopra! Visto, l'ho trovato! Abbiamo Mille bastoncini da ghiacciolo! Oh! Ok, bene! Ora forse è meglio andare avanti con i nostri laboretti, eh? Ora che abbiamo tutti questi bastoncini di legno e anche gli altri materiali Ok, prima di tutto prendiamo uno due tre e quattro bastoncini di legno Li dobbiamo incollare bene tra loro usando la colla a caldo Ne mettiamo solo un pochettino qui al centro È una colla molto calda Perciò Deve esserci sempre un adulto ad aiutarvi, capito? Metto una goccia di colla sul secondo E appoggio il terzo bastoncino Perfetto! Ancora un po' di colla al centro E... Un bastoncino Ecco fatto! Guardate! Come vi sembra? Wow! Wow! È venuto benissimo, vero? Già! Sembra proprio un fiocco di neve Però non abbiamo ancora finito Dobbiamo decorare il fiocco di neve Perciò prendo la colla a caldo e... ne metto un pochino sulle estremità Poi ci metto delle palline colorate Wow! Che cosa ve ne pare? Già! Lo lasciamo qua a riposare per un po' Mentre noi ne facciamo un altro E stavolta usiamo la pittura Ecco fatto! Ehi! Ci sta un altro bastoncino Questo somiglia proprio a un bel fiocco di neve Ok! Per questo useremo la pittura Arancione Blu Rosso Giallo Verde Bene! È davvero bellissimo! Vi piace? Vi piace? Vi piace? Già! Piace anche a me! Wow! Ci è avvenuto molto bene! Rivediamo insieme i colori Abbiamo verde Il colore che abbiamo steso Quindi sarà bello asciutto ormai Ecco qua! Perfetto! Ottimo! Ottimo! È venuto veramente veramente bene! Ok! Lasciamolo asciugare Ma mentre aspettiamo Possiamo prendere l'altro fiocco che abbiamo fatto prima E appenderlo all'albero Wow! Ok! Che ne dite di metterlo qui in alto vicino alla punta? Già! Prendiamo il gancio E lo appendiamo qui Wow! Vi piace il nostro fiocco di neve? Wow! Io lo adoro! Ottimo lavoro! Bene! Adesso possiamo prendere l'altro Wow! Vediamo! Sì! Direi che è asciutto Mi sembra Perfetto! Bene! Potremmo Metterlo Qua Sotto Già! Wow! Ecco quante belle decorazioni natalizie abbiamo fatto insieme! Wow! Vi siete divertiti? Già! Io di sicuro sì! Mi è piaciuto tantissimo creare questi addobbi con voi! Bene! E mi piacerebbe vedere quelli che farete voi quest'anno! Già! Farete anche voi la ghirlanda? Già! Questa è una bella decorazione per l'albero Ma potete anche appenderla a un muro! Wow! E cosa ne dite dei nostri fiocchi di neve di carta? Wow! Sono proprio fantastici, vero? Già! Uh! I bastoncini da ghiacciolo! Già! Abbiamo fatto dei fiocchi di neve con i bastoncini! Wow! Anche questi sono molto belli e variopinti! Magari ne farete una sola! O magari le farete tutte e tre! Già! Beh, non posso andarmene prima di aver rimesso sull'albero le nostre decorazioni! Allora, vi piace? Niente male! È bellissimo, vero? Wow! È proprio forte! Oh! E questi sono coloratissimi! Mi sembra perfetto, eh? Wow! Che splendido albero di Natale! Già! È stato bellissimo! Bene! Avete dimostrato grande abilità nel fare questi lavoretti e queste decorazioni con me! Voglio farvi i miei migliori auguri di buone feste e buon Natale! E ringraziarvi tanto per essere miei amici! Ci vediamo presto! Ciao, ciao! Mi sono divertito un mondo con voi, ma siamo arrivati alla fine del video! Ma se volete vederne degli altri, dovete soltanto cercare il mio nome! Fate con me lo spelling del mio nome! B-L-I-P-P-I Blippi! Bravissimi! Ciao, ciao! Blippi! Seguimi e vedrai! Ti divertirai! Blippi! Blippi! Il mondo scoprirai! Molte cose imparerai! Blippi! Guardate! È una motoslitta in miniatura! E guardate! Sono io, Blippi! Sono così emozionato all'idea di giocare con questa motoslitta in questo paradiso invernale! Apriamo la scatola e giochiamo con la motoslitta! Oh, ok! Lascio la scatola qui per ora, ma tornerò dopo a prenderla, quando avremo finito di giocare con la motoslitta! Beh, questo giocattolo è di color arancione! Wow! E nella scatola c'è anche un guidatore in miniatura! Già! Ok, è quasi completamente svitata! Oh! Wow! Ah! Ecco fatto! Wow! Guardate che motoslitta! Con i cingoli! Wow! 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 Mettiamo la motoslitta sulla neve! Ma prima di cominciare a giocare Devo indossare dei vestiti invernali Perché fa proprio freddo! Ok, venite da questa parte Torno subito, motoslitta! Bene! Il primo dei miei abiti invernali! Pantaloni da neve e sono di color arancione Ok, indossiamoli! Guardatemi! Ciu-ciu-ciu-ciu-ciu-ciu-ciu! Sei! Adesso non sento il freddo della neve! Ok, andiamo a prendere degli altri abiti! Guardate cosa c'è! Questi sono stivali da neve! Wow! E sono di colore blu! Blu! Già! Mi conoscete! Blu e arancione! Ok! La notifica cheia! Spontillare! V Different State! Espzias pelo日brio! No temanmo di св limbo! Fari v базare! Spontillare! Mvincibot studio! sia e Arr mi avete visto cadere è stato divertente ok adesso ho indossato i pantaloni da neve arancioni e gli stivali blu già adesso posso camminare nella neve fare le giravolte nella neve e posso cadere con le ginocchia nella neve ok vediamo cos'altro c'è qui guardate esatto questa è una giacca da neve è come un cappotto vedete i cappotti ti tengono al caldo e si mettono quando fa freddo bene mi sento già più caldo non vedo l'ora di giocare con la mia motoslitta quando sarò tutto ben coperto sapete cos'altro mi serve ho il cappotto i pantaloni gli stivali cosa mi manca ho un po' freddo alle orecchie esatto un berretto andiamo oh guardate questo questo è il berretto di blippi vedete b l i p p i guardate sono io blippi bene indossiamo il berretto di blippi guardatemi il mio berretto il cappotto i pantaloni gli stivali è tutto così caldo ma un momento sento freddo al collo vediamo cosa trovo ecco questo è un pezzo di tessuto arancione molto lungo guardate è una sciarpa guardate come si indossa le fate fare un giro e poi la infilate qui chiudete e ora anche il collo è bello caldo già il collo il torso le gambe 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 i piedi i piedi i piedi i piedi e invece le mani facciamo un bel applauso ok questi sono i miei guanti e sono di color arancione mi piace il color arancione e il blu avevo le mani fredde prima ma adesso già sono calde ok ho messo il primo guanto e adesso metto anche il secondo e dopo che avrò messo i guanti torneremo per giocare con la moto slitta col giocattolo ha bewah wow 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 guardate quanta neve oh oh Hellurs ok andiamo di là a prendere la motoslitta ok guardate qui più vicini wow guardate questa motoslitta le motoslitte hanno questi sci davanti che restano sopra la neve e invece dietro hanno dei cingoli che le fanno muovere perché hanno molta trazione pronti adesso costruisco un trampolino bene ok ok sei pronta a saltare motoslitta sono pronta bene pronti sta per fare una capriola 3 2 1 facciamolo ancora 3 2 1 avete visto questa motoslitta giocattolo è divertentissima guardate questo è proprio bellissimo come un paradiso invernale tutta la neve bianca e gli alberi verdi e guardate quegli alberi lì in fondo sembrano così piccoli da qui riesco a malapena a vederli ma guardate qui invece wow quando sono vicini gli alberi sono alti e grossi ma quando sono tanto lontani sembrano piccolissimi è buffo perché sono della stessa grandezza e restate qui guardate visto? sembravo così grande vicino a voi ma adesso sembro più piccolo perché sono lontano wow e guardate quanto sono grandi questi alberi venite qui vi sembreranno ancora più grandi wow quindi quando eravate lontani avete visto che sembravo piccolissimo ma ora sono altissimo wow e questi alberi sono ancora più alti ora che siamo vicini a loro wow sono davvero alberi altissimi e guardiamo di nuovo quelli lontani visto? sono molto piccoli bene gli alberi sono divertenti ma anche le motoslitte non sono da meno ok a presto ehi sono io blippi guardate cosa c'è dietro di me wow questa è una motoslitta questa motoslitta appartiene ai miei amici magnus e hans oggi voi e io impareremo qualcosa sulle motoslitte ehi mi sono dimenticato di chiedervi che colori vedete sulla motoslitta già io vedo il colore rosso rosso nero bianco ehi guardate qui sotto ehi guardate qui sotto anche argento i colori che vedo i colori che vedo i colori che vedo io sono verde marrone e che altro già la neve è bianca andiamo mi piace giocare sulla neve ma è fredda woohoo yeeeh 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 questa motoslitta è davvero potente che sapete da dove prende tutta la sua potenza alla motoslitta esatto il motore wow guardate qui sembra che ci sia oh questo potrebbe essere l'olio motore wow questo è quello che raffredda il motore vediamo questo dovrebbe essere il volano alcuni ingranaggi oh e guardate questo questo è l'ammortizzatore esatto fa parte delle sospensioni della motoslitta wow e guardate qui sotto questa motoslitta ha due sci uno qui e l'altro di là wow questi qui davanti servono a far sterzare la motoslitta andiamo dall'altra parte wow l'altro vano motore wow sembra che qui ci sia la marmitta non è il caso di toccarla perché è rovente qui c'è il filtro dell'aria e qui sotto abbiamo il motore proprio lì wow questo è un motore piccolo ma molto potente ed è qui sul davanti della motoslitta andiamo sul retro venite wow questi sono i cingoli della motoslitta vedete questi grossi spuntoni qui sopra? wow questi aiutano i cingoli a fare presa sulla neve così non sbanda o scivola è un po' come il battistrada su una ruota con pneumatico ma questa motoslitta non ha né ruote né pneumatici oh venite a vedere questo bene questo qui sopra è il cruscotto proprio qui con questo si può vedere quanto si va veloci o la temperatura del motore oh e guardate qui sì la chiave sapete a cosa serve se la infilate e poi la girate la motoslitta si accende ma non è come un'automobile dove basta girare la chiave qui dovete anche tirare questo guardate sì venite come dispositivo di sicurezza c'è il freno e come dispositivo non di sicurezza c'è l'acceleratore è stato divertentissimo andare sulla motoslitta con voi ragazzi quanto mi piacciono le stagioni e a voi piacciono? sì è interessante quante cose divertenti si possono fare in primavera estate autunno e inverno sì andiamo ciao 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 wow! guardate! guardate cosa abbiamo trovato! già! abbiamo trovato un fiume! è stato divertentissimo andare in giro con la moto slitta! e anche trovare questo fiume! ehi sapete che animali vivono in questo fiume? già! probabilmente dei pesci! non vorrei proprio essere un pesce in questo momento e nuotare nel fiume! l'acqua sembra fredda! sì! wow! guardate questo veicolo giallo! wow! notate qualcosa di particolare? già! guardate! così come la moto slitta ha i cingoli! esatto! non ha ruote e pneumatici! già! anche questa jeep ha i cingoli! neanche lei ha ruote e pneumatici proprio come la moto slitta! ha 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 ha! ha ha! ha ha ha! Ci si diverte proprio tanto con le motoslitte dell'Eavensworth Snowmobile Tours di Mountain Springs Lodge a Blaine, Washington! Vi piace andare sulla motoslitta? Sì! Anche a me piace! Beh, siamo arrivati alla fine della puntata ma se volete vederne altre tutto quello che dovete fare è cercare il mio nome! Volete fare lo spelling con me? P-L-I P-P-I Blippi! Ben fatto! Ciao ciao! Ciao a tutti! Ehi! Sono io, Blippi! Eccoci, siamo alla vetreria Boulder Band Glassworks di Leavenworth, Washington! Wow! Guardate che meraviglia! Caspita! Queste sono delle sculture in vetro Certo, sono veramente fragili! Perciò le toccherò con grande cautela Wow! Guardate un po' qua! Già! Possiamo mettere un sacco di cose qui dentro! Wow! 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 Guardate che bei colori accesi! Wow! Sono curiosissimo di vedere come li fanno! Sì! Questi oggetti sono fatti a mano! Qui! Già! Fatti a mano! Non vengono usate delle macchine né altre modalità! Ogni singolo manufatto viene modellato oppure soffiato! Eh già! Se ne occupano due persone qui alla vetreria! Ok! Andiamo! Venite! Wow! Wow! Guardate che bello! Questo è un piatto col bordo blu e il fondo bianco! Potrei metterci tanto cibo e poi mangiarlo! Miam miam miam! Oppure potrei usarlo come soprammobile! Wow! Sono davvero stupendi! Wow! Guardate questo! È blu e arancione! I miei due colori preferiti! Wow! Il vetro è fantastico! Perché è molto duro! Aia! Che male! Ma quando si riscalda a temperature elevate? Già! Diventa simile a... A un liquido! Come se fosse... Miele! Ah ah! Adoro il miele! Ah ah! Wow! Guardate questo posto! Wow! Ci sono tutti gli strumenti del mestiere qui e gli attrezzi! Ehi! Venite a vedere! Wow! Guardate che utensili! Oh ah! Somigliano alle forbici! Ah ah! Ma non si usano per la carta! Eh già! Fra poco vedremo come funzionano queste! Oh ah! Adesso voglio mostrarvi una cosa! Wow! Guardate quanti colori! In realtà queste sono bacchette di vetro! Wow! Che colore è questo? Già! È rosso brillante! Sentite il rumore? Già! Ah ah! Ok! Qui abbiamo dei rossi poi gli arancioni poi qualche giallo diversi verdi e poi c'è anche un intruso qui il blu notte varie sfumature di azzurro e infine chiudiamo con i viola! Ah! Ma dimenticavo il bianco! Ah ah! Che forza! Sono così impaziente di scoprire quali oggetti faremo con il vetro! Wow! Ci sono un sacco di bacchette di vetro! Wow! Sono fortissime! Ah ah! All'interno sono colorate! Oh oh! Ok! Ah ah! Ok! Vediamo che troviamo qui! Wow! Guardate! Già! È una comoda panca! È qui che si fa arrotolare l'asta di metallo con il vetro sulla punta! Abbiamo un utensile una specie di spatola di metallo per appiattire il vetro! Uh! Delle pinze enormi! Uh! Wow! Qui ci sono delle forbici a diamante! Ognuno di questi attrezzi viene usato per la lavorazione del vetro! Oh! Guardate qua sotto! Un'enorme spatola! Sembra proprio che il vetro caldo l'abbia fatta diventare tutta nera! L'ha bruciata nel corso del tempo! Non è forte! Ok! La rimetto a posto! Ehi! Guardate! Questo è un cannello! Già! È uno strumento molto utile perché emette delle fiammate belle forti! Wow! Oh! Ehi! Guardate! Somiglia un po' a una ciotola! Wow! Mi piace! Ah! Credo serva per metterci il vetro! Ok! Continuiamo a esplorare! Oh! Sapete che cos'è? Sì! Questo è un forno! Mettono il vetro qui dentro per renderlo incandescente! Di sicuro scotta da morire! Perciò non ho intenzione di toccarlo! Oh! Ma c'è un bel calduccio! Oh! Guardate che meraviglia! Piccoli pezzettini di vetro! Wow! Sono coloratissimi! Wow! Giallo! Blu! Arancione e giallo! Viola! Oh! E non dimentichiamo i miei due colori preferiti! Blu e arancione! Ciao! Sono troppo belli! Wow! Che cosa c'è qua giù? Qui ci sono i dispositivi di protezione! E mi conoscete! Io adoro la sicurezza! Guardate qua! Oh! Avete visto? Che bei guantoni! Oh! Indossando i guantoni possiamo anche toccare il vetro bollente senza bruciarci! Wow! Oh! 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 Wow! Ma questo è proprio un casco! Ah! Come sto? Ah! Sono un po' buffo! Ah! Oh! Adoro i dispositivi di protezione! Garantiscono la tua sicurezza! Oh! Un altro forno! Quando l'oggetto è finito viene messo qui a raffreddarsi molto lentamente! Oh! Ce n'è ancora un altro! Ma questo forno è molto, molto caldo! È qui che collocano il vetro quando è grezzo! Già! Lì dentro diventa praticamente liquido! Oh! Oh! Guardate! Questo è un cannello! C'è il rischio di bruciarsi e io non ho nessuna intenzione di toccarlo! Wow! Quante cose interessanti nella vetreria! Ma bisogna stare veramente, veramente attenti! Ehi! Guardate! Che forza! Avete visto queste canne? Alcune di queste sono anche forate! Riuscite a distinguerle? Da questa estremità il maestro vetraio soffia nella cavità della canna! Invece all'altra estremità ci sarà il bolo di vetro così l'aria lo farà gonfiare un po' come quando si fanno i palloncini... ...con il bubble gum! Ah! Già! Queste sono altre canne da soffio! Guardate! Anche se le hanno usate, si sono già raffreddate e infatti io riesco a toccarle tranquillamente! Già! Ah! Molto interessante! Ah! Yeah! Wow! Ah! Fantastico! Wow! Che cosa stanno facendo? Wow! Ciao! Ciao! Chi siete voi due? Ciao! Io sono Craig! Io sono Jory! Oh! Molto piacere! Io sono Blippi! Che cosa fate? Soffiamo il vetro! Facciamo dei cuori! La nostra specialità! Oh! Soffiano il vetro e fanno dei cuori! Vi va a dimostrarci come si fanno? Sì! Molto volentieri! Grandioso! Wow! Perché lo fai roteare in aria? Uso la forza di gravità! Wow! Che stai facendo? Gli sto dando una bella forma a cuore! Oh! E stai usando delle pinze! Haha! wow avete visto cosa ha realizzato? già è un cuore già il simbolo dell'amore perché lo mettete lì dentro? perché così il vetro si raffredda lentamente sennò rischia di andare in frantumi resta nel forno tutto il giorno a 920 gradi e dopo lo lasciamo raffreddare due giorni wow che emozione non vedo l'ora che si raffreddi così potremo ammirare il cuore visto che forza sono stati bravissimi a realizzare il cuore ora tocca a me fare un cuore e la prima cosa che devo fare è indossare i miei occhiali protettivi già wow allora come sto? wow wow yeah bene sono pronto wow wow guardate qua oh prima cosa va fatto rotolare sì oh è davvero divertente e adesso ecco fatto mi sto divertendo un mondo wow adesso lo faccio scaldare io ho scelto il blu e l'arancione i miei due colori preferiti ah 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 sì qual è il vostro colore preferito me lo dite? wow che colore stupendo ah 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 visto come lo faccio girare? yeah altrimenti il vetro cola per colpa della forza di gravità sì wow 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 è molto caldo bravo appoggialo lì ok vai così ora lo faccio rotolare vallo rotolare wow dai da bravo wow continua così continua vai su e giù proprio così sì ok ottimo lavoro blippi ecco continuo così adesso ci siamo bene bene puoi fermarti ok fallo raffreddare ok hai visto che era davvero incandescente sì lo lasciamo raffreddare così in seguito possiamo aggiungere altro vetro per finire la lavorazione e il risultato ottenuto sarà perfetto ok ok ora si sta raffreddando un po' wow è venuto molto bene grazie ehi oh è divertente wow da non credere che il vetro diventi così duro quando è freddo ma quando viene riscaldato a temperature elevatissime si scioglie e diventa della consistenza del miele adoro il miele ma sicuramente se questo vetro fosse miele non lo mangerei perché brucerebbe wow wow vedete che sta facendo usa quell'attrezzo a forma di ciotola e ci fa arrotolare dentro il vetro che è diventato tondo e anche liscio wow ah 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 un'altra passata nel forno uh ah ok è pronto mi raccomando stai attento oh 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 allora la prima cosa da fare è batterlo ma mentre lo faccio rotolare ecco ok ok wow che bello voglio modellare meglio la forma si capisce che è un cuore si ok lo scaldo ancora un po' e poi voglio migliorare ancora un po' la forma ok bene aggiusto e sistemo la forma e poi ci siamo wow beh che ve ne pare è proprio bello adesso voglio allungare e accentuare un po' di più questa punta perfetto infine devo fare questo fatto però io lo vorrei un po' più marcato non riesco a centrarlo per bene ci provo beh non fa niente perfetto è finito che ve ne pare è venuto benissimo ok molto bravo wow è stato molto divertente ora si occuperanno delle ultime rifiniture e dopo lo staccheranno dalla canna di metallo e 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 ora stiamo usando il cannello perché abbiamo staccato il vetro dalla canna lo riscaldiamo lo levighiamo e poi applichiamo il timbro e poi applichiamo il timbro un bel paralone wow voi non l'avete visto ma l'hanno soffiato e poi gonfiato e modellato wow com'è bello wow è un vero capolavoro in seguito hanno creato questa bella ciotola bianca e turchese wow possiamo metterci un sacco di caramelle qui dentro wow sono stati davvero molto bravi wow hanno realizzato anche un cuore sì hanno usato il giallo e l'arancione oh sì bello è così dolce e dopo anche io ho potuto fare un cuore sì ricordate quali sono i due colori che ha usato sì blu e arancione wow eccolo qui wow abbiamo fatto una decorazione stupenda su questo cuore wow e non è stata dura ma il vetro lo è diventato quando si è raffreddato sì è diventato davvero durissimo già ma quando il vetro era incandescente era praticamente liquido wow sì un po' come il miele ma non è miele è vetro va bene allora adesso è meglio che me ne vada a casa siamo arrivati alla fine del video ma se volete vederne anche altri non dovete fare altro che cercare il mio nome vogliamo fare lo spelling insieme b l i p i blipi ben fatto ok ciao ciao ahahah hey sono io blipi oggi mi trovo alla scuola di circo synapse di Auburn Washington wow guardate questo posto wow è davvero colorato i bambini vengono qui per imparare alcune discipline legate al circo oh ciao chi sei? ciao sono l'istruttrice Crystal e vi insegnerò le specialità del circo sono emozionato per prima cosa devi toglierti le scarpe ok devo togliere le scarpe d'accordo ci siamo una scarpa due scarpe molto bene ora che ho tolto le scarpe possiamo imparare cose nuove wow guardate questo posto è davvero stupendo ci sono moltissimi oggetti fantastici qui wow sì queste sono palline da giocoliere ahah le useremo più tardi piume ma che ci fanno qui? ahahah che buffo wow guardate queste sono funi tese non vedo l'ora di rimanerci in equilibrio più tardi wow ma è un tappeto elastico su questo si può rimbalzare vorrei davvero saltarci sopra ma forse non dovrei farlo senza aver prima riscaldato un po' i muscoli già wow guardate qua è una sbarra a cui appendersi oh dei tessuti aerei wow di che colore è questo? già questo è di colore viola oh seguitemi ce n'è un altro ce n'è un altro questo è di colore giallo ahahah va bene basta giocare adesso riscaldiamoci così possiamo distendere i muscoli e divertirci oh ehi ehi pronto per il riscaldamento? sì sono pronto correremo fino alla parete blu e poi torneremo verso i bambini che ci stanno guardando ok sì andiamo guardate sto correndo wow adesso spostiamoci al centro del tappeto va bene disegniamo dei cerchi all'indietro dobbiamo preparare le braccia per sostenerci sui tessuti aerei e sul trapezio wow ok ora in avanti come se nuotaste ok guardate sto facendo dei grandi cerchi con le braccia bene sediamoci nella posizione della farfalla unite le dita dei piedi e fate una farfalla uh guardate un po' mi sto muovendo come una bella farfalla già quando nascono le farfalle sono dei bruchi poi subiscono una metamorfosi e infine diventano tutti delle bellissime farfalle ok chiudiamo le gambe e stendiamole sul pavimento adesso andremo sulla luna afferratevi i piedi e preparatevi 5 4 3 2 1 lancio oh oh facciamolo di nuovo questa volta partiamo dal 3 3 2 1 lancio oh oh ié ahah 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 Wow, è stata davvero brava! Avete visto quanto ha saltato in alto? Già! Wow! Guardate lei cosa fa! È bello che i bambini possano venire qui per imparare le discipline circensi! Wow! Guardate lei! Wow! Sa usare in modo veramente fantastico quei tessuti aerei! Date un'occhiata! Wow! Osservate quest'area! È davvero forte! Vedete questi grossi fogli di carta dietro di me? Già! Le scritte colorate che vedete? Già! Riportano degli obiettivi e quando li raggiungete potete scriverci sotto il nome! Andiamo a vedere! Qui c'è scritto Inversione in Aria! Wow! Questo significa che tutti i bambini che hanno scritto il loro nome sul cartellone hanno raggiunto l'obiettivo! Per esempio Neil, Alissa, Jonah e Zoe! Wow! Ben fatto! Che bello! Vediamo cos'altro c'è scritto! Wow! Ruota a gambe distese! Però è difficile! Ma guardate quanti bambini l'hanno imparata! Wow! È emozionante! Uh! Giocoleria con sei clavi e passaggi! Wow! Questo sì che è difficile! Infatti nessun bambino ha ancora imparato a farlo! Wow! È davvero pazzesco! Mi è venuta un'idea! Uh! E se scegliessi uno di questi obiettivi e provassi a raggiungerlo? Sembra davvero divertente! Ehm! Oh! Ecco questo! Capovolta in avanti alzandosi in piedi senza mani! Oh! Ma che bell'esercizio! È una capriola! Ma poi, alla fine, quando ci si sollevano si usano le mani! Già! Dovrei provare a farla! Sarà un vero spasso! Ci sono! Sì! Yeah! Ce l'ho fatta! Ecco la penna! Ora puoi scrivere il tuo nome sul cartellone! Davvero? Fantastico! Oh! Yeah! Oh! Yeah! Ok! Ci siamo! È il momento di scrivere il mio nome! B-L-I-P-P-I Blippi! Wow! È stato fantastico! Yeah! 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 Wow! Guardate quest'area! Ci sono tante cose davvero bellissime! Wow! Che cosa sono? Wow! Sembra proprio un arcobaleno! Wow! Qui in fondo ci sono dei cerchi viola! Che bello! Sono viola! Wow! Guardate! Poi abbiamo anche alcuni cerchi blu... ...e proseguendo... ...dei cerchi verdi... ...alcuni gialli... ...alcuni gialli... ...e poi... ...dei cerchi rossicci! Sembrano arancioni... ...ma diciamo pure che sono rossi! ...e... ...e... ...abbiamo dei cerchi rosa! Wow! Sono stupendi! Davvero colorati! Ehi! Che forma è questa? Già! È un cerchio come dice il nome! Guardate! Wow! Magari posso fare il giocoliere! Andiamo! Wow! Me ne è caduto uno! È divertente! Guardate! Potete anche farli girare intorno al braccio! Wow! E se provassi a usarne tanti insieme! Vedrete! Sarà proprio fortissimo! Pronti? Wow! 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 Ah ah! È divertente! Osservate! Questo tipo di lancio si chiama pancake! Potete esercitarvi in questo modo! Già! Provate a farlo ruotare! Guardate! Yeee! Ce l'ho fatta! Bene! Adesso rimettiamoli a posto! Non dimentichiamoci di questo! Ok! Adesso che sono di nuovo tutti in ordine al loro posto... Magari... ...potremmo usare qualche altro oggetto! Wow! Come questo! Ecco qui! E la piuma di un pavone! Wow! I pavoni sono davvero bellissimi! Ne avete mai visto uno prima d'ora? Wow! Già! I pavoni possono aprire la propria coda e sono magnifici quando lo fanno! Ma in realtà quello che voglio fare oggi è prendere una di queste piume di pavone... ...e provare a tenerla in equilibrio! Bene! L'appoggio sul dito! Wow! Ah! Guardate! Già! La tengo in equilibrio e cerco di non farla cadere per terra! Wow! Potete farlo rimanendo fermi nello stesso posto... ...oppure provarci anche mentre vi muovete! Wow! Wow! Ah! Ah! È difficile! Wow! Guardate un po' qui! Pronti? Voglio provare a metterla sul mio naso! Wow! Wow! È in equilibrio! Oh! Ah! Oh! Oh! Che buffo! Wow! È super spassoso tenere gli oggetti in equilibrio! Che cos'altro abbiamo qui? Oh! Sembra proprio che siano... Oh! Ah! Dei bastoncini! E qui... ...ci sono... ...alcuni piatti! Quanti piatti ho preso, bambini? Esatto! Uno... ...due... ...tre piatti! E di che colore sono? Corretto! Blu... ...rosso... ...esatto! È giallo! Va bene! Prendiamo... ...quello blu! Il blu è uno dei miei due colori preferiti! E facciamolo girare! Wow! Ci siamo! Così! Vedete come gira e resta in equilibrio? Già! Ma ricordate che questi sono piatti di plastica! Non provate assolutamente a farlo a casa con i vostri piatti! Perché se cadono quelli si rompono! Wow! Sì! Questi sono piatti da giocoliere! Wow! Gira, gira, gira! Pronti? Wow! Provo a rifarlo! Wow! Avete visto? Ce l'abbiamo fatta! Oh! Ah! Ok! Non riprovo più! Va bene! Fatemi mettere via queste cose e vediamo cos'altro c'è! Wow! Date un'occhiata a queste! Sono tante palline da giocoliere! Già! Mi conoscete! Mi piace proprio fare il giocoliere, non è vero? Già! Vediamo un po'! Oh! Sono super colorate! Guardate! Questa qui mi ricorda un'ape! Sì! Le api sono davvero fantastiche perché... Producono il miele! Gnaam! Adoro il miele! Ok! Poi abbiamo anche una pallina rossa e nera! Una... Blu e bianca! Una verde e nera! Ok! Ora devo sceglierne tre! Che ne dite? Eeeh! Di queste qui? Haha! D'accordo! Siete pronti? Mi metto in ginocchio e faccio il giocoliere! Wow! Fare il giocoliere è uno spasso! È piuttosto complicato! Wow! Ma facendo tanta pratica, si possono imparare cose... Proprio forti! Haha! Yeee! Va bene! Ora guardate questo! Farò il giocoliere con tutte queste! Siete pronti? Bene! Sarà molto difficile riuscirci! Cominciamo! Haha! Che sciocchezza! Va bene! Ora devo raccogliere le palline! D'accordo! Vediamo che altro c'è là! Wow! Guardate qui! Hula hoop! Che belli! Io adoro gli hula hoop! Dai! Prendiamone due o tre! Bene! Venite da questa parte! Wow! Ho preso tre hula hoop! Vediamo! Di che colore sono questi hula hoop? Già! Già! Questo qua è arancione, giallo e rosso! Wow! Che bello questo hula hoop! Poi c'è questo! Già! È blu! E argento brillantinato! Wow! Ehi! Qual è il vostro colore preferito? Wow! È un colore stupendo! I miei due colori preferiti sono il blu e l'arancione! E questo qui? Sì! Questo è di colore viola e argento, brillantinato e scintillante! Yeah! Usiamo questo! D'accordo! Proverò prima a farlo girare sul braccio! Wow! 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 Yeah! Whee! Haha! Woo! Haha! Guardate qua! Yeah! Bene! Ora proviamo così! Avrei una bella idea! Ora che sono sul pavimento, potremmo sparpagliarli e provare a saltarci! dentro! Già! D'accordo! Facciamo come la rana! Qua! Qua! Haha! Qua! Qua! Haha! Bravi! Ben fatto! E' stato uno spasso imparare queste discipline del circo! Già! Wow! Guardate qui! Già! Ve la ricordate? Questa è la fune tesa! Wow! Già! Ora voi ed io proveremo a starci in piedi in equilibrio! E' molto difficile perché la fune è sottile! Wow! Oh oh! Va bene! Proviamoci! Va bene! Sali su questa piattaforma, poi mettiti in piedi bello dritto e guarda davanti a te! Va bene! Io rimarrò qui in caso cadessi! D'accordo! Perfetto! Ci siamo! Wow! 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 Ah! Sono caduto! Va bene! Proviamo ancora! Andiamo! Wow! Wow! È caduto di nuovo! Però è stato molto divertente! Va bene! Adesso provo una terza volta! Ci siamo! Posso farcela! Wow! Wow! Guardatemi! Ci sto riuscendo davvero! Wow! Wow! Che bello! Ce l'ho fatta! Avete visto? È vero, è stato molto complicato, ma è davvero bellissimo riuscire a fare qualcosa di così super difficile! Ben fatto! Ok! Per prima cosa inizierò rotolando! Si comincia! Wow! Va bene! Adesso passiamo all'equilibrio! Wow! 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 E ora una passeggiata sulle braccia! Andiamo! Wow! 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 Yeah! Wow! Wow! È stato... proprio... Un vero... Spesso! Yeah! Purtroppo siamo arrivati alla fine del video! Ma se volete vedere altri miei video, vi basta cercare online il mio bel nome! Fate... Fate... Lo spelling... Insieme... Insieme... A me... Pronti? B-L-E-I-P-P-I! Woohoo! Ehi! Sono io, Blippi! E guardate dove ci troviamo? Già! Siamo al centro sciistico di Leavenworth nello stato di Washington! Woohoo! È il paese delle meraviglie invernali! E voi e io ci divertiremo un sacco nella neve! Andiamo! Questo sì che è uno spasso! Wow! Avete visto cosa ho fatto? Già! Sono sceso con questa giù da quel pendio! Ma non era un pendio così alto! Ma ehi! Qui ce n'è uno più grande! E c'è una macchina che ti porta in cima al pendio! Così non sei costretto a camminare fin lassù! Ve la mostro tra un attimo! Ma prima... Questa è una camera d'aria! Wow! Questa camera d'aria ha un rivestimento esterno rosso! Wow! Esso protegge la camera d'aria che come vedete all'interno è nera e di gomma molto resistente! Visto? E poi... Ha un grosso laccio da traino! A questo anello andrà attaccato bene il gancio che poi ci trainerà! Fino in cima al pendio! Yuhuuu! Wow! Vediamo come funziona! Ok! Osservate! Questa macchina qui, come vedete, ha dei cavi e degli ingranaggi! Diamoci un'occhiata! Vedete questi ingranaggi? Visto come ruotano! Ed è proprio questa rotazione che fornisce la forza e tutta l'energia a questi ganci! Li vedete? Così trainano la ciambella e la persona fino in cima al pendio! Ok! Attacchiamone una e stiamo a vedere dove va a finire! Wow! Ok! Voglio proporvi un gioco! Contiamo quante ciambelle vediamo qui! Pronti? Una! Due! Tre! Quattro ciambelle! Ottimo lavoro! Insieme ne abbiamo contate quattro! Ora facciamo un altro gioco! Questo è molto semplice! Di che forma è? La camera d'aria? Non è un quadrato! Sarà forse un triangolo? No! È della stessa forma di un copertone! Già! È un cerchio! Ben fatto! Ehi! Osservate! Vediamo insieme cos'è! Questo è un tappetino nero in gomma! Ed è davvero pesante! E questo... È un grosso tappeto grigio! Esatto! Proprio come i tappeti che potreste avere nelle vostre case! Già! I tappeti sono posizionati sul percorso della camera d'aria per farla rallentare! Perché altrimenti... Andreste troppo veloci e fareste così un salto enorme! Venite! Ok! Pronto a salire! Wow! Wow! Avete visto come andavo veloce? È stato magnifico! Wow! Guardate qua! Ma che macchina fantastica è questa! La cosa forte delle stazioni sciistiche è che hanno queste grosse macchine che tengono in ordine il terreno! Guardiamola da vicino! Wow! Vedete questo? Già! Questo è un cingolo! Già! Questo veicolo... Ha... I cingoli! Interessante! La maggior parte dei veicoli ha... Ha delle ruote! Ma questo non le ha! Questo ha i cingoli che fanno presa sulla neve e non lo fanno scivolare o slittare! Haha! Vediamolo in azione! Oh, così va lì dietro! E vai! Ho! 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 wow guardate qua vedete quello che faccio già sto guidando una bicicletta non è un po' strano andare in bicicletta sulla neve sì normalmente si guida la bici sul cemento sulla terra e sull'asfalto ma guardate qua vedete i copertoni di questa bici già guardate come sono grandi e larghi wow sono decisamente più grandi di quelli di una normale bici già questi si chiamano copertoni larghi così trattengono meglio la neve e quindi si evita di slittare wow questa bici ha un'ottima tenuta pedaliamo ciao wow questa è neve è freddissima chiedo scusa ci parte questo è l'inverno la neve cade giù copriti bene e non pensarci più palle di neve e angeli farai con la famiglia e gli amici tu sarai l'inverno è così prendiamo altra attrezzatura da neve ora che la neve è tutta qui la moto slitta servirà tu prova a salirci su e vedrai andrà tutta velocità questo è l'inverno la neve cade giù copriti bene e non pensarci più palle di neve e angeli farai con la famiglia e gli amici tu sarai l'inverno è così l'inverno è così l'inverno è così l'inverno è così che potete giocare sulla neve con voi oggi wow le stagioni mi piacciono proprio tanto già per me l'inverno è un fantastico periodo dell'anno beh siamo arrivati alla fine del video ma se volete vederne altri è facile vi basta cercare il mio nome facciamo lo spelling del mio nome b l i p p i b l i p ben fatto ok alla prossima ciao ciao ehi sono io b l i p avete visto cosa c'è dietro di me wow c'è un bellissimo aeroplano blu e giallo già ah 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 avete notato che sto imitando il volo di un aeroplano sapete io adoro gli aeroplani perciò quest'oggi mi trovo al museo del volo di seattle washington così voi e io impareremo nuove cose sugli aeroplani evviva andiamo oh buongiorno ah ah benvenuti alla blippy airlines dove siete diretti oggi? wow direi che è una stupenda destinazione è un viaggio di affari o piacere? ah 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 grandioso allora eh vediamo vi ho fatto il check in avete bagagli? ah ah ok perfetto uh grazie mille ah ah bene poniamo il bagaglio sulla bilancia ottimo siete nei limiti di peso consentito lo metto sul nastro fatto ah 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 beh vi auguro buon viaggio ora che ci penso mi sembra un'idea divertente posso venire con voi? ah 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 perfetto evviva ah 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 allora si vola anch'io il biglietto adesso passo da quella parte wow ah 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 sono così emozionato di viaggiare insieme a voi ah 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 ehi dobbiamo passare i controlli di sicurezza ah 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 oh oh l'avete sentito? oh oh significa che ho qualcosa in tasca che non dovrei avere oh 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 so che cos'è è solo il mio cellulare ah 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 ok lo appoggio lì sopra ah 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 venite molto bene siamo tutti pronti ah 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 perfetto andiamo wow guardate l'aeroplano wow la fusoliera dell'aereo la cabina e la coda dell'aereo lassù in alto wow scommetto che sarà un volo divertente bene lascio il vostro bagaglio nella stiva ti prendiamo dopo ah 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 wow guardate cosa c'è già il camion del rifornimento wow leggete qua carburante ah 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 allora afferriamo la pompa e provvediamo a rifornire di carburante il serbatoio ecco fatto attacchiamola oh perfetto è pieno ok finito bene ora che l'aereo ha il serbatoio pieno di carburante possiamo mettere la cintura ok prima di tutto la allacciamo ecco così bene ora seguiamo le istruzioni di sicurezza per il volo ah 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 grazie per aver scelto Blippi Airlines vi invitiamo a seguire il percorso luminoso e individuare l'uscita di emergenza più vicina allacciate la cintura di sicurezza e accertate che sia ben stretta se servisse la maschera per l'ossigeno scenderà dal pannello sopra di voi ok abbiamo visto la dimostrazione di sicurezza e i passeggeri sono tutti seduti perciò vado a far decollare l'aereo ah 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 wow ma è troppo forte guardate quanti indicatori e strumenti interessanti wow oh oh coraggio si parte wow oh 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 yeah wow oh oh guardatela lo vedete quell'aeroplano è così grande già io sono molto più piccolo di quell'aeroplano e sapete cosa sono queste? già esatto sono proprio le ali molti aerei presentano due ali ai lati della fusoliera ma non tutti quanti ah ah alcuni ne hanno di più ah ah oh e fate attenzione questo è il corpo principale dell'aeroplano e si chiama fusoliera wow l'aeroplano viene usato come mezzo di trasporto per le persone perché le trasporta da un luogo di partenza a un luogo di destinazione proprio come diciamo la macchina o la barca o la bicicletta però è molto più veloce ma ehi ricordate che prima ho detto che questo aeroplano è super grande? su seguitemi perché c'è un altro aeroplano che voglio mostrarvi ma questo non è così grande oh vi ricordate che ho detto che quell'aereo era grande? beh guardate questo wow già invece questo è piccolo ah 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 beh è più piccolo se paragonato a quell'altro ma sono sicuro che ce ne sono anche di più piccoli di questo ma ehi quali colori riuscite a vedere? già rosso bianco e blu già wow oh mi dite che forma è quella? oh già direi che è proprio una stella wow a guardarlo sembra che questo aereo sfrecci velocissimo wow wow guardate davanti a voi c'è il motore autentico di un aeromobile già ma lo vedete senza l'involucro esterno wow ed è davvero grande guardate quanto è grande in confronto a me visto come è fatto all'interno? ci sono un sacco di pompe e tubi oh si l'aria entra nel motore da qui viene compressa brucia e poi boom wow queste ruote sono grandi e ce ne sono due qui anteriormente infatti questa è la parte davanti dell'aereo ma ora andiamo a vedere la parte dietro così contiamo quante ruote ci sono wow le vedete? wow ci sono più ruote nella parte posteriore wow quest'aereo deve essere estremamente pesante già sarà per questo che ha così tante ruote wow vi siete accorti di quanto è grande quest'ala? se cominciasse a piovere di certo non rischierei di bagnarmi wow avete visto questo aeroplano? dall'aspetto sembra che voli molto veloce ehi di che colore è questo aeroplano? già indovinato è blu ma c'è anche un pochino di giallo ben fatto wow avete visto quest'aereo quanto è grande? wow mi dite di che colore è? già è bianco rosso e grigio andiamo a cercare altri colori wow guardate questo aeroplano notate qualcosa di diverso? già infatti ha due ali su questo lato e due ali anche sull'altro già perciò ha due coppie di ali interessante la cosa ma ehi indoviniamo di che colore è? di che colore è questo aeroplano? già indovinato avete detto verde ben fatto il mondo mi sembra piccolo quando sono qua sull'aeroplano sull'aeroplano ti sentirai in cima al mondo ascolta il motore che si scalda e partirà tu volerai più su vai verso il cielo blu e scoprirai la libertà tu volerai più su tu volerai più su vai verso il cielo blu scoprirai la libertà tu volerai più su vai verso il cielo blu scoprirai la libertà Prendi tutto, una valigia, un passaporto, ora sei pronto. La cintura dovrà allacciare, sei pronto a decollare. Ascolta il motore che si scalda e partirà. Tu volerai più su, vai verso il cielo blu e scoprirai la libertà. Tu volerai più su, vai verso il cielo blu, scoprirai la libertà. So che volerai, oh yeah! So che volerai, oh yeah! Wow! È stato super divertente scoprire tante cose sugli aerei. Quest'oggi qui al Museo del Volo di Seattle, Washington! A voi piacciono gli aerei? Già, piacciono anche a me! È fantastico pensare a quanto volino alti nel cielo! Ci sono degli aerei più piccoli e degli aerei più grandi! Beh, siamo arrivati alla fine del video, ma se volete vederne degli altri, dovete semplicemente cercare il mio nome! Lo fate lo spelling con me? B-L-I-P-P-I Blippi! Ben fatto! Allora, alla prossima! Ciao, ciao! Ehi, sono io, Blippi! Guardate dove mi trovo! Sono al supermercato! Ma guardate cosa c'è! Una mela deliziosa! Chissà com'è arrivata fino a qui! Mele! Le mele che trovate dal fruttivendolo arrivano da una piantagione di meli! Per prima cosa si cerca una mela matura! Come questa! Questa è proprio invitante! E dopo averla raccolta, si mette nella cassa con tutte le altre mele! Cerchiamo insieme una mela! Forza! Ne vedete una? Io ne vedo una! Già! Guardate! Comincia tutto con un addetto che raccoglie a mano ogni singola mela! E poi scarica il suo sacco nelle casse! E quando la cassa è piena, un trattore la raccoglie e la porta via! Ora che le mele sono raccolte dai campi e messe nelle casse e le casse sono piene, bisogna trasportarle fino ai camion! Quattro casse giganti piene di mele! E un trattore rosso! Ok, le casse ora sono vicine al camion! Adesso dobbiamo caricare tutte queste mele sul cassone con un muletto! Ora che il camion è stato caricato, possiamo andare! Ci dirigiamo allo stabilimento! Siamo arrivati allo stabilimento! Adesso ci serve un altro muletto per scaricare tutte le casse dal camion! Ok, adesso è il momento di lavare e impacchettare tutte le mele! Guardate! Mele verdi! Ora dobbiamo svuotare tutte le casse di mele, così possiamo lavarle e impacchettarle! Le mele iniziano il loro viaggio quando le casse vengono svuotate! Guardate, le casse sono vuote! Wow! Un sacco di mele galleggianti! Poi vengono tirate fuori dall'acqua e spazzolate per bene! Belle pulite! E ancora spazzolate! Guardate quante spazzole! Sembra che le mele si stiano divertendo! E poi le mele vengono spruzzate con dell'acqua bella pulita! E poi passano sotto a dei ventilatori giganti! Una volta che le mele sono asciutte, vengono selezionate! Si separano quelle che sembrano gustose da mangiare, da quelle che non lo sembrano! E ricordate le mele che non sembrano gustose? Esatto! Sono queste! Queste salgono su una divertente scalamobile per mele! E poi scendono su un nastro trasportatore che le porta verso la trasformazione in golose torte di mele! Ma non abbiamo ancora finito qui! Ogni mela che sembra gustosa riceve un adesivo! Questa è la macchina degli adesivi! E una volta che ogni mela ha ricevuto il suo adesivo, viene messa su quello che mi piace chiamare un letto per mele! Nel passaggio successivo, questi letti per mele sono infilati in scatole di cartone mentre altre mele sono infilate in sacchi di plastica Oh! Sembra che alcune di queste scatole debbano ancora essere chiuse! Ora che le mele sono tutte pulite e impacchettate, vanno conservate in un frigorifero gigante in attesa dei camion! Vedete? Qui siamo dentro al frigorifero gigante! Qui dentro fa davvero freddissimo! Qua è dove si conservano tutte le mele! Wow! Guardate quante mele ci sono! È proprio un magazzino altissimo! Iuppi! Il camion si sta avvicinando al magazzino, così da essere caricato con un mucchio di mele fresche! Le mele sono quasi pronte per essere mangiate! Adesso le stanno caricando nel cassone di un camion! Perfetto, muletti! Ancora un po' di mele! Ora che il camion è pieno di mele, andrà a consegnarle ai fruttivendoli! È stato istruttivo vedere come le mele raggiungono i negozi insieme a voi! E ricordate! Una mela al giorno toglie il medico di torno! Quattro ruote sotto i piedi girano Sulla tavola in equilibrio stiamo Con lo skateboard puoi viaggiare Sulla pista puoi giocare La città con lui puoi girare Andiamo! Tanti trickings che puoi far Con il tempo puoi imparare Sulla rampa E poi ancora giù La tua sicurezza non dimenticare Metti il casco e ti proteggerà Sulla rampa E poi ancora giù Facciamo skateboard sempre più Ok, mettiti bene il casco I paragombiti e le girocchiere E mantieni l'equilibrio Ogni trick ha un nome Impararli puoi Il flip-o-li power sliding bike È super divertente! Ci vuole tempo per impararti Ma pratica prima o poi riuscirà Sullo skate di pista volerà Tanti trickings che puoi far Con il tempo puoi imparare Sulla rampa E poi ancora giù La tua sicurezza non dimenticare Metti il casco e ti proteggerà Sulla rampa E poi ancora giù Facciamo skateboard sempre più Sì! Fantastico! Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo imparato ad andare sullo skateboard Ciao ciao!